Ciao a tutti, cosa succederà in amore a breve? In questo video voglio spiegarti cosa succederà in amore a breve attraverso questo interattivo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo a cosa succederà in amore a breve. Allora, quello che devi fare è quindi scegliere o il colore rosso, o il colore blu, o il colore nero, o il colore blu, o il colore rosso. Mentre tu scegli il colore, io inizio a togliere il rosso, inizio a togliere il blu e partiamo dal nero. Cosa succederà in amore a breve? Beh, diciamo che inizierai a fare una nuova conoscenza. Questo è un punto che direi è abbastanza fondamentale, perché una conoscenza è sempre un qualcosa di molto importante. E riuscirai a trovare, diciamo, un'intenzione unitaria che non è una cosa da poco. E quindi è proprio una nuova conoscenza che entrerà nella tua vita, una persona che inizierai a conoscere. Quindi ci sarà una conoscenza, non è ancora chiaro come si svilupperà. Però ci saranno delle buone occasioni, degli eventi, diciamo, legati a eventi sincronici, che faranno sì che con questa persona ci siano delle connessioni. Sarà un po' come una partita a scacchi, talvolta come quando si riconosce, ad esempio, una persona e otterrai, diciamo, riuscirai a fare delle scelte in modo libero, delle scelte in modo preciso. E questo non è così male, perché praticamente la connessione però sarà più spirituale con questa persona. Quindi sarà una conoscenza, però a breve si svilupperà un'affinità intellettuale, ma non un'affinità personale. Però potrebbe essere che nel lungo periodo questa situazione possa evolversi. Però diciamo che a breve entrerà una persona nuova nella tua vita, una conoscenza nuova nella tua vita. Ovviamente questo penso sia importante per te, insomma. Bene, per questa prima stesa è tutto. Passiamo alla seconda stesa, quella rossa. Nel frattempo ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella, così riceverai le notifiche ai nuovi video. Seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo che sul canale potrai abbonarti, ottenendo delle risposte precise e mirate alle tue domande. Adesso veniamo alla stesa rossa. Allora, a breve, cosa succederà? Beh, diciamo che avrai tutte le porte aperte, tutti i cancelli saranno aperti, e quello che desideri da un certo punto di vista si realizzerà. Quindi un amore sicuramente inizierà a svilupparsi. Tieni presente che se vuoi che si sviluppi veramente, dovrai metterci la faccia, diciamo, no? Quindi questa è la condizione affinché si sviluppi. E talvolta le cose possono andare bene, possono andare male, perché non sempre, diciamo, una relazione va nel verso giusto. Però purtroppo, in alcuni casi, il possesso, il tirano verso il basso. Quindi un amore arriverà, ma poi tenderà a trascinarti in qualche blocco. Devi affrontare tutto in modo più naturale. Comunque ci sarà un amore, che arriverà nella tua vita, con alti e bassi e talvolta anche molta possessività. Quindi una storia ce l'avrai, non sarà una storia lineare, non penso sarà la storia della vita, anzi, sarà una storia però che darà molti problemi da un certo punto di vista. Bene, per questa seconda stesa è tutto. Passiamo alla stesa blu. Passiamo alla stesa blu. E vediamo a che cosa succederà in amore a breve. Passiamo alla stesa blu. Allora, diciamo che a breve dovrai guardarti un po' nello specchio, renderti conto del fatto che ci possono essere delle situazioni che non portano a dei risultati. Se devi sapere esattamente quello che vuoi per far andare nel giusto modo le cose. Devi assolutamente impegnarti e mettere energie. Ci sarà sicuramente la chiusura di una situazione antecedente, che possa essere un divorzio, un qualcosa, o tuo o di qualcun altro, ma comunque avverrà un evento specifico. Tu hai molto ordine nella tua vita e quindi hai difficoltà a lasciare entrare le persone. Insomma, i cancelli sono sempre chiusi. Però, diciamo, un'unione ci sarà più un'unione di solidarietà, comunque. Un'unione di solidarietà. Vediamo come si può evolvere quest'unione di solidarietà. Beh, si può evolvere attraverso il cuore. Quindi, quest'unione che svilupperai porterà, diciamo, un amore, anche se con qualche pensiero, diciamo, qualche pensiero di troppo che può in qualche modo dare fastidio nella propria vita. Bene. E per quest'altra stesa blu è tutto. Per il video è tutto. Ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguirmi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti.